Eccoci, buonasera, sono Pat e l'ultima cosa che ho scritto è sale un paio di settimane fa e la mente, insomma, è sempre al lavoro, non riposa mai, che ora faccio ascoltare? Basta limitare gesti, nascondere le mani, per sembrare indifferente, ma tu essere incessante E gli sguardi nelle modalità con cui mi appartieni e detieni il potere di farmi cadere Dopo aver dedicato uno sguardo che sa di impossibile, di ineffabile, di impossibile Grazie Grazie Grazie